Le ossa parlano di Antonio Manzini. Siamo di fronte all'ultima indagine di Rocco Schiavone che dopo la trasposizione televisiva tutti immaginano con il volto di Marco Giallini. In questo caso la vicenda parte dal ritrovamento di uno scheletro del bosco. Si tratta di un bambino di dieci anni scomparso circa sei anni prima e che si sospetta sia stato vittima di abusi. Rocco prende particolarmente a cuore questo caso e come lui tutta la squadra. Si tratta di violenza su un piccolo innocente e questo smuove le coscienze e l'indignazione di tutti. Molte sono le domande alle quali trovare risposta. Chi aspettava Mirko fuori dalla scuola? Conosceva il suo guzzino? Come e dove l'aveva incontrato? Nel caso viene coinvolto Carlo che grazie alle sue competenze informatiche si spinge nel deep web alla ricerca di nomi e indizi utili. Dopo aver iniziato quasi per gioco, spinto dalla curiosità, dal gusto per la sfida, resta molto scosso da quanto scopre di quel mondo oscuro e malato. La vicenda si chiude in modo inatteso per il lettore poiché il responsabile si rivela essere il più insospettabile. L'intreccio vede anche lo sviluppo delle storie dei vari personaggi della squadra. Deruta finalmente organizza la mostra dei suoi quadri. Italo, incapace di resistere al richiamo del denaro facile, finisce in guai seri. Caterina torna sul campo e soprattutto Rocco è in parte disteso per la condanna del responsabile dell'omicidio della moglie, in parte deluso e preoccupato per il tradimento di Sebastiano, amico da sempre. Non manca la presenza di Marina, che sembra tuttavia sempre più evanescente, un ricordo che piano piano si sta allontanando. Lettura imperdibile per gli amanti del genere e per chi apprezza la scrittura accurata di Manzini.